Chi pensa di viaggiare dal o verso il Regno Unito ci pensi due volte. Dopo lo sciopero della sanità pubblica in Gran Bretagna ha preso il via quello del trasporto aereo e ferroviario con l'agitazione dei lavoratori che chiedono aumenti salariali per contrastare il carovita. Il Regno Unito intanto è nella morsa della neve del ghiaccio con temperature minime da record toccate nelle ultime ore. In questo quadro sono più di 140 e voli cancellati oggi con le scali di Stan Steed, Gatwich, Luton e London City tra i più colpiti. Il settore ferroviario si fermerà anche domani e di nuovo venerdì e sabato preannunciando un fine settimana nero per chi deve viaggiare. Accanto alle foto natalizie da cartolina della Londra e Miancata si sono registrati gravi disagi anche per quanti cercavano di muoversi con la metropolitana. Un'ondata di protesta che come ricordano i media britannici fa tornare in mente le manifestazioni di massa che alla fine degli anni 70 hanno scosso il paese facendo perdere l'equivalente di diverse decine di milioni di giornate di lavoro all'economia britannica. Il governo inglese ha così convocato d'urgenza il comitato di emergenza COBRA con la mobilitazione dei militari per coprire i servizi essenziali perché oltre ai trasporti esplode anche la protesta dell'infermiere e degli addetti alle ambulanze che rischiano di causare una paralisi negli ospedali del Regno Unito. Intanto le previsioni meteo non sono affatto confortanti e l'ondata di gelo proseguirà per diversi giorni ancora. Grazie a tutti.